ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video quest'oggi dopo aver visto ieri la partita tra inter e liverpool andremo a fare un commento noi con me c'è il buon franz franz non perdiamo tempo buttiamoci subito la partita prima però vi dico di iscrivervi al canale e la campanellina lasciare mi piace seguirci di condividere dividere il video sono sempre cose che non fai male fare direi di partire con il commento della partita e caro franz allora che è successo come mai è arrivato questo risultato visto anche una partita estremamente equilibrata in campo esatto perché se uno non avesse visto la partita e vede soltanto risultato dice liverpool ha fatto la partita e come tante volte è successo già le nostre italiane non si sono presentate pronte diciamo al test champions league eppure per chi ha visto la partita ieri sera tra l'altro si giocava san siro ma ricordo che per la questione non contano più i gol in trasferta quindi alla fine questo 2 0 conta esattamente come 2 a 0 insomma non non ci si spiega di come l'inter abbia effettivamente potuto perdere ma anche solo fare zero gol nella partita di ieri perché se poi uno va appunto rivedere la partita analizzando un po come come è andata primi 20 minuti un ottimo liverpool molto forte subito ad aggredire l'avversario forse anche un inter molto timida visto il peso della sfida ricordiamo che l'inter ha recuperato all'ultimo bastoni però mancava secondo me un giocatore centrale con questa squadra come nicolo barella perché è sicuramente il miglior centrocampista di questa squadra e nonostante vidal abbia cercato poi adesso vedete anche qua sotto le nostre pagelle però nonostante vidal abbia cercato di arginare quel buco la differenza secondo me è netta no a livello proprio di velocità con cui ragionano velocità in campo velocità di esecuzione esatto esatto quindi primi 20 minuti di comunque un bel liverpool che ha fatto tantissimi tiri un inter molto in difficoltà che si è dovuta schermare con devrai con screener tanti veramente tanti tiri un'occasionissima per mani di testa dopodiché la partita è cambiata totalmente perché l'inter è cresciuta dopo la traversa colpita da cialano group traversa tra l'altro che c'è anche pallone che rimbalza quasi all'interno ma la verità che stava la tremanda adesso ancora tremando una bombarda di diceva no blue che secondo me è stato uno dei migliori in campo tra l'altro e e da lì l'inter ha preso coraggio nel primo tempo ancora partita molto equilibrata con continui di baltoni il possesso palla è praticamente identico in varie 50 52 54 liverpool 46 inter ma nei minuti se hanno tenuto palla quindi si è giusto anche perché per me l'ultimo quarto d'ora hanno fatto giro palla però comunque la partita molto equilibrata le occasioni se andiamo a vedere i tiri verso la porta sono assolutamente pari e allora uno si chiede perché poi l'inter facendo il secondo tempo che ha fatto di posso dire almeno fino al 75esimo totale dominio il liverpool non riusciva uscire dalla propria area ogni pallone recuperato ma anche se uno sentiva lo stadio come incitava i neri azzurri era una bolgia cose che personalmente si sono viste poche volte come van d'aik spazzare il pallone sarà anche guardare altre alternative o anche alison un altro giocatore che coi piedi ci sa fare benissimo molto spesso andato in difficoltà era veramente un assedio e l'inerzia sembrava tutto dalla parte dell'inter che veramente non so come non si è riuscito a trovare il gol in collocazione aveva trovato il gol con gecom fuori gioco quella abbastanza paese ma pensa all'occasione che ha avuto lautaro sul pallone dalla sinistra di perisic cioè quella un'occasione clamorosa un'altra occasione secondo me anche per per lautaro che ha preferito tirare invece che passare il pallone sono state tantissime adesso uno dovrebbe andarsi a rivedere ancora una volta la partita per ricordarsi tutte le occasioni però se uno va poi poi cos'è successo solo per finire il riassunto al 75esimo pallone nella mischia da calcio d'angolo bobby firmino appena entrato la manda sul secondo palo grossa complicità secondo me di samirandani arriviamo al grosso problema di questa partita per l'inter che è stato samirandani però te ne dirò poi un altro però te ne dirò un altro perché ok ci sta le colpe del portiere però c'è un altro problema che adesso andiamo a vedere e poi all'ottantaduesimo tanti tresimo sala raddoppia 2 a 0 liverpool partita chiusa quel punto su un'altra azione molto confusa un devrai che non riesce a spazzare il pallone bene perché marcato e sala come un fulmine batte a rete in modo centrale anche secondo me l'inter perché bastoni la deve leggermente in prese intervento di screener quindi dato esatto anche qui secondo me qualcosina in più non ci poteva farlo perché non si butta neanche pallone completamente centrale vero che il quartiere era fuori posizione però insomma una situazione difficile da digerire per l'inter che in sette minuti di fatto annulla una prestazione mostruosa che aveva fatto contro contro i reds e qui veniamo al problema mi ha ricordato prima scusa e volevo dire questa volta mi ha ricordato molto quella giocata contro il real madrid altrettanto ben giocata altrettanto non dico dominata ma assolutamente mantenuta in controllo e poi nei minuti finali in quel caso il gol di rodrigo in questo caso ti dirò di più questa forse anche giocata ancora di più perché le occasioni sottoporta sono state ancora di più e poi secondo me avevi una squadra di fronte superiore a questo real madrid perché è vero che il real è pericolosissimo in tutto quanto ma una squadra più di possesso invece il liverpool di attacchi te ne fa tantissime una squadra che sta in forma comunque il paragone è assolutamente azzeccato però appunto qual è il problema di queste sfide qui secondo te qual è la cosa più lampante io ce l'ho in mente la cosa più lampante che manca a questa squadra perché poi se uno va a leggere anche le parole che ha detto alison nel post partita ha detto che secondo lui un pareggio sarebbe stato meritato per come ha giocato l'inter e per dirlo alison voglio dire credo che non si insomma il liverpool sia uscito anche fortunato da no fortunato no cinico sicuramente e abbia raccolto però tanto rispetto a quanto poteva lasciare per strada allora secondo me all'inter sono mancate due cose principalmente la prima è brutto da dire ma è mancato un attaccante perché arrivare a creare così tanto che se l'inter ha fatto nove tiri di cui neanche uno in porta solo attraverso di però formalmente non è considerato tiri in porta comunque perché dove è mancata non c'è stata precisione sotto porta capisco la pressione capisco tutto quanto ma lautaro ha vinto una coppa america quest'estate geco un attaccante di esperienza internazionale che ha vinto un sacco di trofei dalla panchina ti esce sanchez che ha vinto tutto mi sembra strano non riuscire a fare neanche un tiro ad allison e costruire tanto e non finalizzare un po lo stesso problema che ha che ha avuto la juve ad esempio fino ad ora adesso più o meno sta mettendo a posto le cose con vlaovic però è un problema che l'inter non aveva avuto fino ad ora l'inter è una squadra che creava tanto ma segnava anche tanto il problema è che in serie a quando non hai di fronte queste squadre non hai questa pressione comunque l'inter parliamo della squadra con il miglior attacco e comunque ancora diciamo si sente dire che ha problemi a livello finalizzativo perché per quanto costruisce dovrebbe fare molti più gol di quelli che fa sicuramente lautaro non è in un periodo buono e questo l'abbiamo capito c'è una grossa discrepanza tra le sue prestazioni fa con l'argentina e le prestazioni che poi si vedono con l'inter per quanto ieri comunque era marcato da gente come van deyck e con a te quindi diciamo che di tante partite può essere quella più scusata gecko fa un lavoro immenso secondo me per questa inter ma poi anche lui sotto porta è poco poco freddo anche l'occasione dove è stato rimontato da da van deyck controlla malissimo il pallone su una palla giocata lì da perisic o da bastoni non mi ricordo più bellissima forse no no credo che fosse perché sul laterale però comunque al di là di questo un lancio spettacolare a smarcare la difesa è un movimento bellissimo alle spalle di il problema poi è che già non sei veloce e se sbagli anche lo stop quella era un'occasione clamorosa quindi lì van deyck era recuperato ma come tante altre occasioni quindi un inter pericolosissima ma che poi effettivamente se uno va a vedere come dicevi tu non ha mai tirato veramente in porta quindi non c'è mai stata neanche quasi l'occasione di dire o hanno sfiorato il gol e il portiere ha fatto i miracoli o la palla porta era stregata insomma la differenza è che con lo stesso numero di tiri il liverpool tiri in porta 2 è proprio questo il problema che volevo dire io o meglio quello che io trovo come cosa è uno che ti mancano ancora cioè è un gioco fantastico quello dell'inter ieri si è dimostrato ieri l'inter è stato superiore per alcune parti di partita al liverpool ma la differenza tra queste squadre cioè tra le squadre italiane in questo momento e le squadre poi veramente vanno a completare per degli obiettivi grandi è la mancanza di quel giocatore che ti fa la differenza nella squadra o meglio quel top player che ti porta l'esperienza la qualità o i gol necessari e questo è stato lampante perché poi salà che non si è visto per tutta la partita partita muscolosa di bastoni su di lui è una cosa che ho fatto tante volte quest'estate quest'anno salà giocare partite completamente anonime dove magari sbaglia occasione passaggi semplici poi gli arriva un pallone lì e segna è quello il problema però poi alla fine te la porti a casa e il liverpool esce con un 2-0 da san siro che secondo me quasi archivia è ormai la questione qualificazione per l'inter quando secondo me con un 1-1 non avresti rubato nulla e ti andavi a giocare no 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 assolutamente diciamo che adesso si fa veramente dura perché andare a vincere con due gol di scarta da danfield difficilissimo è praticamente impossibile più che altro ecco una cosa che mi è un po' dispiaciuta di questa partita è dopo l'1-0 del liverpool vedere san siro completamente ammutolito è anche quello sì 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 io infatti mi aspettavo un po' di più dalla tifoseria in generale dagli italiani che dovevano motivare questa squadra ma in generale devo dire che in tutta la partita tolti quei minuti di assedio intorno al sessantesimo san siro mi è sembrata un po' piatta ieri sera devo dire vabbè ci sta anche non era così alta per la capienza al 50% esatto esatto però si vedevano prima ancora del 2-0 del liverpool persone che lasciavano lo stadio alla fine si sentivano quelli del liverpool cantare quanti saranno stati di cose del liverpool 3-4 mila certo certo no infatti quindi da quel punto di vista si è persa anche tante inerze secondo me non avendo la carica del pubblico no esatto io però direi che una cosa se la può portare se vogliamo l'inter dietro da questa partita che in Italia in questo momento credo sia la squadra più d'avanguardia più con un gioco efficace a livello europeo e anche con la consapevolezza dei mezzi perché tu andare a fare quel giro palla con la costruzione al basso così rischiosa e sbagliare pochissimo come ha fatto ieri l'inter quando si è prestato dal liverpool penso dalle occasioni tra De Vrij, Brozovic, Andanovic che gestivano palla in difesa hai una consapevolezza enorme di quello che vuoi fare e di farlo bene e quindi secondo me in questo momento questa Inter in generale da tifoseria o meno va supportata e andrebbero supportate altre squadre italiane che propongono un gioco veramente efficace perché è questa la chiave per andare poi a far bene in Europa assolutamente infatti si è visto a livello europeo il salto da Conte a Inzaghi e non l'avrei mai pensato però Inzaghi è un gioco molto più europeo di quello che aveva proposto Antonio Conte all'Inter il gioco di Conte era perfetto per la Serie A però quando andava a giocare contro squadroni in Europa arrancava sì sì, sempre arrancava, sì sì, assolutamente questa sera abbiamo visto un Inter che se la gioca a livello di gioco alla pari con il Liverpool a livello di interpreti se la gioca quasi alla pari con il Liverpool manca quel quid che ti risolve la partita sì sì sì, mancano quei giocatori che ti fanno la differenza che in queste partite contano tantissimo e soprattutto secondo me purtroppo mi dispiace dirlo ma l'Inter se avesse un portiere un pochino più giovane forse qualcosina in più lo starebbe raccogliendo detto che per Andano esce nelle scorse stagioni è stato fondamentalmente l'unica salvaguardia di questa squadra quindi insomma il calcio dà e il calcio toglie quindi alla fine è anche inutile poi premersela troppo con il portiere no 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 ma assolutamente però avessimo visto i portieri a parti invertite ah sì sì, forse 2-0 per l'Inter beh no perché non ha tirato in porta ma 0-0 giusto hai ragione 0-0 forse sì eh 0-0 sì forse sì hai ragione insomma adesso l'Inter più che altro deve rimanere concentrata dopo questa partita perché poi questa potrebbe essere un po' uno scossone vediamo adesso il campionato dove affronterà il Sassuolo e lì il Milan non vede l'ora che l'Inter faccia un passo falso poi in questo momento si trova davanti anche se con una partita in più due parole proprio due su questo Bayern Monaco allora facciamo che che boh allora io quando ho visto le formazioni ho detto cosa sta succedendo perché Bayern ha proposto un 3-1-4-2 con Pavard, Lucas Hernandez e Sule in difesa quindi di fatto quasi due terzini nei tre centrali Tolisso e Kimmich al centrocampo e poi davanti tutti insieme Sané, Coman, Gnabry, Müller e Lewandowski con una formazione del genere mi si è rispettato un Bayern da 6-7 gol eh sì invece va subito sotto e poi riesce a pareggiare al novantesimo con Coman però è un Bayern che è andato parecchio in difficoltà con questo Salisburgo e chissà chissà che il Salisburgo non possa provare a portare la partita in rigore o a fare un'impresa era qualcosa di impronosticabile perché comunque dici il Bayern Monaco cacchio poi non è che dici una squadra che sta giocando anche male anzi no però forse evidentemente questo sbilanciarsi troppo in avanti ha creato scompensi nella squadra e hanno un po' sottovalutato l'avversario certo che se il Salisburgo riuscisse a fare questa impresa sarebbe veramente favoloso sarebbe innanzitutto uno smacco per il Bayern perdere contro una squadra austriaca penso che sarebbe però però questo Red Bull Salisburgo abbiamo detto nonostante tutte le cessioni sta facendo la sua figura quindi una squadra assolutamente da tenere d'occhio con elementi molto interessanti purtroppo Adeyemi si è infortunato però magari potrà esserci per il ritorno vedremo ok bene caro caro mio franzo direi che possiamo chiudere qui il video sì 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 è stato speriamo che che vi sia piaciuto e che comunque i nostri temi portati siano comunque validi anche per voi fatecelo sapere qua sotto nei commenti ovviamente le vostre opinioni l'impressione che avete a questo punto sia per il passaggio di turno eventuale di Inter e Salisburgo che sono quelle che partono ovviamente un pochino meno e iscrivetevi al canale condividete con i vostri amici perché è fondamentale per noi ragazzi che voi ci date un supporto e boh noi ci rivediamo poi con i consigli del fantacalcio perché riprende la Serie A e ci saranno altri temi di cui parlare anzi tantissimi temi di cui parlare anche in campionato per oggi è tutto noi ci vediamo ad un prossimo appuntamento ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti